Coraggio ragazzi, oggi dobbiamo incidere quattro facciate, proviamo dall'introduzione I'll be friend with play, ok? Ok. Ciao, io sono Andy Seacrest e conosco tutti i tuoi dischi a memoria. Walt, ha partorito tuo amore? E come, due gemelle! Va bene, cominciamo. Dalla prima battuta. One, two, three, four. Basta, basta! Allora, cosa succede? Niente, Paul, scusami, questa stronza non suona. Solo un attimo, scusa. Vai un po' a vedere che cos'è, vai. Sì. Andy, te la senti di farlo tu? Penso di sì. Ancela solo? Bix, stai male? No, sto arrivando. Joe, Joe, aiutami. Ho bisogno di bere. Vai subito. No, 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 no. No, 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 no. Ma cosa? No, 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 no Grazie.